Per la gioia del pubblico maschile, in questa edizione dell'Isola dei Famosi sta spiccando un personaggio in particolare che attira l'attenzione grazie alla sua bellezza che sfoggia sull'isola. Stiamo parlando di Pamela Camassa, che durante il reality show ha fatto già la differenza dimostrando il suo talento e il suo carisma, ma anche per il suo stile, indossando i suoi bikini floreali. Tante le immagini di Pamela Camassa immersa nelle acque cristalline dell'isola, dove sfoggia il suo fisico formoso e muscoloso, ma soprattutto sensuale, posato su una bella abbronzatura. Il suo bikini ormai la rappresenta e mostra la sua audacia, la sua vitalità e gioia di andare avanti. Ma oltre a questo, Pamela ha dimostrato a tutti di avere una forte determinazione e grandi abilità nel cercare di sopravvivere in quelle circostanze alquanto avverse. Infatti, non solo l'abbiamo vista e la vediamo affrontare sfide fisiche e psicologiche sull'isola, ma notiamo anche il suo strepitoso ingegno per procurarsi il cibo. Difatti, chi segue in reality, ha visto come Pamela ha un certo affaire nel trovare e raccogliere le noci di cocco. Con l'uso di pietre trovate in spiaggia, ha potuto notare la sua tenacia nello spaccare i gusci duri per arrivare al frutto e all'acqua di cocco, che lì sono preziose risorse per la sopravvivenza. Così come il suo coraggio e la risolutezza nell'affrontare le varie sfide dell'isola dei famosi. Queste cose, insieme al suo bikini e alla sua immagine, hanno fatto sì che Pamela Camassa conquistasse il cuore dei telespettatori. Ma ricordiamo chi è e cosa ha fatto. Pamela Camassa è nata a Prato il 22 aprile del 1984. Attualmente 39enne e una modella e personaggio televisivo italiano. Nel 2000 ha partecipato al film Via del Corso di Adolfo Lippi, dove ha interpretato il ruolo della protagonista insieme a Laura Chiatti e Ilaria Spada. Nell'estate del 2002 ha vinto il titolo di Miss Mondo Italia, ottenendo anche la possibilità di rappresentare l'Italia a Miss Mondo 2002, ma alla quale ha rinunciato come segno di protesta verso il trattamento nei confronti delle donne del paese ospitante, la Nigeria. Nel settembre del 2005 si classifica al terzo posto al concorso di Miss Italia dello stesso anno. E durante la primavera del 2006 esordisce in televisione come valletta per Carlo Conti, nel programma I raccomandati. Nell'autunno del 2006 invece, in coppia con il ballerino Angelo Madonia, partecipa al talent show Ballando con le stelle e si classifica al secondo posto. Esperienza ripetuta poi nel 2007 prendendo parte all'edizione ucraina dello stesso programma. Durante l'inverno del 2008 affianca Carlo Conti nel condurre la prima edizione dei migliori anni. E nel successivo autunno è tra i concorrenti della terza edizione del reality show La Talpa. Ha preso parte anche ai film Un'estate al mare del 2008 di Carlo Vanzina e Change in Cina del 2009 di Marco Limberti. Nello stesso anno ha condotto Poker for Charity e nel 2011 torna su Rai 1 come una delle concorrenti della prima edizione Attenti a quei due la sfida, gareggiando per Max Giussi. Successivamente è stata di nuovo concorrente dello stesso programma nella seconda edizione, in onda nell'inverno del 2012 e condotta da Palo Aperego. Nell'autunno del 2012, invece, partecipa come concorrente alla seconda edizione di tale e quale show, il programma condotto da Carlo Conti diventando uno dei personaggi rivelazione secondo la critica. E quindi ha partecipato allo spin-off Torneo dei Campioni e alla puntata speciale I Duetti. Durante l'inverno del 2013 è stata co-conduttrice della stessa edizione dei migliori anni, mentre nell'estate dell'anno successivo è nel cast del programma comico sportivo Mascigno do Brasil. Nell'autunno del 2019 partecipa insieme al suo storico fidanzato Filippo Bisciglia e vince la prima edizione di Amici Celebrity, programma basato sul format di Amici ma con persone famose. È da tempo fidanzata con Filippo Bisciglia, un conduttore televisivo italiano nato a Roma il 24 giugno del 1977, conosciuto per essere stato concorrente del Grande Fratello 6 nel 2006, conduttore di Temptation Island 2014-2021, concorrente del programma tale e quale show 2017-2018 e per aver partecipato da Amici Celebrities nel 2019 insieme a Pamela. Il video è terminato e voi cosa ne pensate? Commentate, non vediamo l'ora di leggere i vostri commenti. Prima di andare via lasciate un bel like al video e iscrivetevi al canale ricordando che è importantissimo per noi e un semplice gesto per voi. Grazie, un saluto e ci vediamo al prossimo video!